ciao a tutti raga benvenuti nel mio nuovo video sono il vostro lele colli e facciamo l'ultimo atto di driver finalmente siamo qua continuiamo la saga di driver l'ultimo atto vuol dire non è il finale nell'ultimo episodio però sono questo perdendo di controllo non è che c'era quella macchina nera mi ciego e si è piazzata avanti sono fuori strada mia macchina tutta demolita vabbè bisogna essere furbi bisogna i vari sani già la macchina mezza scasciata da rotta mare la macchina da rotta mare vabbè ho il taxi stare si fanno un taxi nuovi mi devo liberare dell'inseguitore però non è come la cura che mi sta attaccata a culo come se fosse un domani vabbè vabbè ragazzi non ho parole veramente basta se non va neanche più avanti sta macchina vabbè ragazzi vi è piaciuto questo episodio lasciate la mi piace il link di descrizione dei miei social come sempre iscrivetevi al mio canale se non l'avete però fatto alla prossima ciao 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 ciao